In collaborazione con Schirama Dolomiti Adamello Brenta, Val di Fiemme, Funivie Folgarida e Marilleva, Val di Sole, Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi, Valle del Chiese, Peio. È tutto rovinato, hai sentito com'era? Un attimo e arriviamo. In collaborazione con Schirama Dolomiti Adamello Brenta, Val di Fiemme, Funivie Folgarida e Marilleva, Val di Sole, Trento, Monte Bondone e Valle del Chiese. Vabbè, è meglio che spengo subito che poi... Ah, c'è l'olio sbagliato, ma fine puntata. Sentilo qua, o no? In collaborazione con Schirama Dolomiti Adamello Brenta, Val di Fiemme, Funivie Folgarida e Marilleva, Val di Sole, Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi, Valle del Chiese, Peio. Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Omoboni al diciannovesimo appuntamento settimanale con S4, il talk show di sport ad Ortev, la multipiattaforma TV e web, tutta dedicata allo sport e al turismo. Puntata questa, tutta dedicata alla montagna, parliamo di quest'estate 2018 che sta iniziando dopo un bel inverno veramente importante che ha avuto la montagna grazie alla tanta neve, ora si pronuncia una grande estate. Ringrazio gli amici che ci sono venuti a trovare, Flavio Del Vai, della Val di Fiemme, grazie Flavio di essere venuto. A Daniela Vecchiato dall'Alpe Cimbra, Folgaria, Luserna e Lavarone, grazie Daniela. Kurt Arrater, che è un organizzatore di eventi, triatlon, ascialpinismo, golf, grazie Kurt di essere venuto. La bellissima Cornelia Vazzoli da Valle del Chiese, grazie Cornelia. E poi Alberto Penasa dalla Val di Sole, insomma come vedete una puntata ricca di grandi eventi che si preannunciano. Flavio, allora la Val di Fiemme è pronta per il 2018 dopo il bel inverno che avete fatto, giusto? Direi che dobbiamo essere pronti, anche se ormai le stagioni sono così vicine che non si distinguono quasi più. Tante strutture alberghiere sono aperte tutto l'anno, stiamo partendo con la stagione estiva, quindi siamo in apertura, siamo in apertura anche con gli eventi. E direi che le prospettive sono di ripetere il successo dell'inverno, quindi è una valle verde, una valle viva che aspetta i nostri ospiti. Abbiamo anticipato un po' i tempi, quindi... Ormai la montagna si vive 360 giorni all'anno, possiamo dirlo? Sì, direi di sì, direi che per ogni stagione c'è una sua peculiarità, insomma, quindi certamente il sole, il verde, l'estate è una stagione che invita ad uscire, invita a tuffarci nella nostra natura, sia in quota sia ai mille metri che sono poi l'altitudine media dei nostri paesi, fino ad arrivare poi alle cime dell'Atemar, qui siamo sull'Atemar, patrimonio dell'UNESCO, quindi a vedere il mondo dalla prospettiva di 2.000 e di 2.500 metri. Questa valle di Fiemme, ricordiamo, si esce a Eira, Ogna, sulla autostrada del Brennero, si sale il passo a Nicola, Pesci Scende, Molina, Castello, Cavalese, Ziano, Stava, poi Varano, 11 comuni, fino ad arrivare a Predazzo, questa valle di 20.000 abitanti che ha ben 6 milioni di alberi, qui bene il grande Stradivario a scegliersi il suo legno perfetto per i suoi magnifici violini. Grande presentazione, poi vediamo questo, il Gardolè, mangiare chiaramente si mangia molto bene, tante feste, dalla Valle di Fiemme un'altra valle molto vicina, vicina non crede, infatti è il payoff che usa l'amica Daniela per l'Alpecimbra, giusto? Sì, vicina da non crederci perché siamo a pochissimi chilometri dall'uscita di Roveretto, quindi raggiungibili velocemente dalla Brennero o per chi arriva dal Friuli e dal Veneto anche dalla 31, quindi poco tempo in macchina che diventa sempre più difficile da sostenere. Si è subito su questo che è uno dei più grandi alpeggi d'Europa, Folgaria Lavarone e Luserna, racchiusi in un nome che è l'Alpecimbra che esprime proprio la valenza di cultura e di tradizioni e di storia che caratterizzano il nostro territorio. È un territorio che è cimbro, in particolare a Luserna, ancora si parla questa antica lingua, quindi un forte attaccamento alle tradizioni che ci rende unici proprio per la proposta che poi ne deriva in tutte le sue declinazioni. Ricordiamo che il cimbre è una delle tre popolazioni che vivono in Trentino, minoranze linguistiche, gli altri sono i Mocchini, in Val Sugana, i Ladini, in Val di Fassa. Questo è il centro di Folgaria, giusto? Questo è il centro di Folgaria in occasione di un evento che è la Notte Bianca che ritorna il 14 luglio e il 14 di agosto, appuntamenti molto attesi, la prima edizione l'anno scorso ma che ha portato migliaia e migliaia di persone a vivere il nostro territorio di sera, di notte in un evento molto bello nel centro di Folgaria che è questo centro con due chilometri di viale pedonale con ristoranti, bar e no gastronomia. Un centro commerciale all'aperto? Un centro commerciale all'aperto con l'aria buona della montagna e quindi... Con la storia e la tradizione. Con la storia e le tradizioni. Fuochi d'artificio finale, comunque come vedete sono tanti gli eventi di questo bellissimo territorio, come sono tanti gli eventi che organizza l'amico Kurt Anrater. Allora, Kurt è la tua società, ti conosciamo per lo scialpinismo Epic Skid Tour d'inverno, Triathlon di Cardano i primi di maggio, il golf, insomma è il tuo lavoro vivere lo sport e pianificare anche un po' di turismo. Infatti stiamo cercando di raccontare sempre un po' in un contesto diverso lo sport, come adesso è nominato anche l'In City Golf che abbiamo fatto l'ultimo fine settimana nella città di Vienna, capitale austriaca, e lì sicuramente è una piattaforma e una visibilità a 360 gradi per un progetto del genere che è nato nel 2010 a Cortina d'Ampezzo, Firenze, Verona, Milano Expo e siamo praticamente alle porte della presentazione. Ecco qui vediamo adesso però un'altra cosa. Abbiamo parlato, adesso poi faremo vedere anche le immagini del golf, questo è il grande evento 30 anni, 30esima edizione di questo triathlon olimpico sul lago di Caldaro, questo lago caldare, questa località proprio fra l'Alto Adige e il Trentino, diciamo un lago molto amato perché la temperatura qua era già calda, noi i primi di maggio era già... Avevamo già 20 gradi, poi è il lago più caldo dell'Alto Adige che la gente va anche già a Pasqua per il bagno. Allora il triathlon per chi non lo conosce gli amici sono tre gare, tre discipline, nuoto, ciclismo e corsa, corse una dopo l'altro, giusto? Una dopo l'altro, prima si praticamente parte direttamente in acqua, poi si esce, si prende la bicicletta, fa 40 chilometri di bici e poi 10 chilometri di corsa per arrivare all'arrivo. È una disciplina olimpica da Sydney del 2000, è una disciplina che si sviluppa in tante distanze, dallo sprint al corto, l'olimpico che è questo, 1500 metri 40 di bici e 10 di corso, poi fino ad arrivare al famoso Iron Man che è veramente una cosa per gli uomini di acciaio. Quanto è difficile organizzare un evento del genere, Kurt? Ma allora qui come su tutti i grandi eventi sei da un anno all'altro, logicamente 30 anni triathlon del lago di Caldaro, già una bella storia, già una tanta esperienza, però comunque sei lì per chiudere le strade, per organizzare tutto, ci vuole sempre un anno per avere tutto con i fiocchi, la gente ormai che viene... E' uno degli sport più completi, perché in effetti lavorano tutti i muscoli, quindi è adatto a tutti, no? E poi chi non è bravo a nuoto ha probabilmente tanti problemi, sì, però ha possibilità di recuperare, però ha tanti problemi, arrivare con i primi. Qui i primi se non sono bravi a nuoto, anche qui vediamo di corsa, poi alla fine della fiera qualcuno riesce a recuperare. 700 iscritti, erano tanti iscritti? Sì, e poi quello è anche un po' il limite perché abbiamo la zona cambio che è già al massimo... Molto ingolfata. Ok, grazie a Curna Rata per questa presentazione, poi parleremo anche degli altri attività che svolge con la sua società. Chiudiamo questa prima presentazione. Cornelia, allora, Valle del Chiese, questa valle che parte dal lago d'Idron, provincia di Brescia, arriva fino al cospetto delle Dolomiti di Brenta, dall'acqua del lago d'Idron, che è un bellissimo lago alimentato dal Chiese, che è uno dei fiumi che nasce dalla Damerno, giusto dal ghiacciare dell'Amero, quindi ricco d'acqua, fino alle Dolomiti di Brenta. Esatto, Floriano, e come hai ben descritto, poc'anzi, il territorio della Valle del Chiese ha questa caratteristica, ovvero mostrare una diversità di climi e ambienti diversi grazie a quella che è la sua conformazione geografica, perché comunque si estende dalle pendici del Carialto, quindi dall'Adamello, da dove nasce il fiume Chiese, per scendere fino al lago d'Idron. È un territorio che si trova al confine con la Lombardia e con la provincia di Brescia. Ecco, queste che vediamo sono proprio le immagini, avete visto il lago d'Idron. Voi avete molto a cuore le tradizioni un po' rurali, le tradizioni che ci sono in montagna, che giustamente le fate sopravvivere cose che mancano in città, come queste feste della mucca, del latte. Avete proprio un progetto, Milk Life, la vita del latte, no? Esatto, quest'anno abbiamo coniato questo nuovo termine un po' accattivante, Milk Life, che è il contenitore che racchiude tutte quelle che sono le iniziative legate al mondo del latte, dei formaggi, raccoglie una serie di grandi eventi a partire dalle desmalgate a settembre, ovvero la discesa delle mucche dagli alpeggi verso valle, per poi procedere con un evento che da quest'anno rientra nella festa del latte, Mondo Contadino, il 22 e il 23 settembre, e poi l'appuntamento importante con il Festival della Polenta, in nuova collocazione a Storo, il 30 di settembre. Quindi tutta una ricchezza legata. Hai nominato proprio la polenta di Storo, che lo chiamano l'oro rosso, no? Perché c'è questo grano molto particolare che dà questa polenta, che è la migliore, dicono, del mercato. Ha questa caratteristica, il grano, quindi questo colore rossastro, e viene utilizzata la farina gialla di Storo in sei varianti di polenta diversa. Quindi anche questa particolarità della Valle del Chiese, di avere appunto sei tipologie di polente diverse, credo che sia unica nel panorama trentino. Grazie Cornelia, chiudiamo la presentazione, Alberto Penasa della Val di Sole. Allora, questa altra Val di Sole, che parte da Mostizzolo, ai confini della Val di Nonne, arriva fino a Ponte di Legno, al Tonale, al confine con la Lombardia, no? Con tre belle stazioni sciistiche importanti, i folgati da Marileva, Peio e il passo del Tonale, una Valle di Sole di nome di fatto, Alberto. Non c'è dubbio, la Val di Sole è particolarmente importante per le tre aree sciistiche, come tu hai ricordato, a proposito, fino al 23 maggio, quindi fino a pochi giorni fa, si è potuto sciare sul ghiaccio della Prasena, che è questa spettacolare aree sciistica, a 3.000 metri spartiacque tra il Trentino e la Lombardia. Però la Val di Sole è particolarmente nota per il fiume, perché l'etimologia di Sole non deriva dall'astro, dal simbolo astrale, ma dal fiume, perché il nostro fiume Noce veniva chiamato dai retti, cioè un popolo celtico pre-romano, Sulis. Ecco perché, come vediamo da queste belle immagini, l'acqua è il filo rosso che lega tutta la Val di Sole per quanto riguarda la lunga stagione estiva, in particolare per il sport. Perché in effetti il fiume che abbiamo visto è il Noce, è famoso per il rafting, è famoso per gli sport acquatici, qui ci sono le montagne più alte del Trentino, l'Ors, il Cebedale, l'Ostelio. Sì, abbiamo il Cebedale che con i suoi 3.769 metri è la seconda montagna più alta di tutta la regione dopo l'Ors. Attenzione che non è Alberto Dall'Aptit che dice che il fiume Noce è famoso in tutto il mondo, è il National Geographic che ha classificato il Noce al decimo posto al mondo, l'unico tra i dieci posti in Europa per quanto riguarda il rafting e la canoa e l'Hydrospeed. Questo è un ponte tibetano, o meglio un ponte sospeso, che resta in Val di Rabi. Questa magnifica conclave all'interno del Parco Nazionale dell'Ostelio. Questa è una passeggiata adatta a tutte le famiglie, potete avere il find your view, quindi cerca, esplora la tua prospettiva e la tua vista. Quindi tante opportunità anche per qualsiasi tipo di gambe e di fiato. Grazie ad Alberto Penata della Val di Sole. Flavio, allora abbiamo parlato della Val di Sole, della Val di Fiemme e ora giustamente adesso... Bello fraccato di Trentino. Allora, abbiamo visto l'Est, l'Ovest... Trentino che è sempre... Come vai siete così bravi? È sempre una terra accogliente. Come vai siete al top delle vacanze? Ma abbiamo una rendita anche naturale, insomma, no? Noi siamo bravi, ma diciamo che c'è stato chi è stato più bravo di noi, insomma, no? Che ci ha reso un territorio sicuramente fruibile, un territorio che si presta a diverse specialità, a diversi utilizzi, e noi cerchiamo di mantenerlo con il nostro lavoro, con il nostro impegno, con la nostra professionalità. E con i tanti eventi che fate? Perché voi avete fatto tour de ski, marcia lunga, ogni combinata... Direi che anche gli eventi durano poi tutto l'anno, no? Magari cambiano i mezzi, dallo sci si passa la bicicletta, dallo sci da fondo poi si passa la corsa campestre, però diciamo che dai piccoli e grandi eventi aiutano molto, aiutano molto, specialmente all'inizio e fine stagione, aiutano molto gli alberghi a stare aperti. Ecco qua, vediamo... Questa è una cosa bellissima che fate. Che è partita lo scorso anno. Che cos'è? Diciamo è una tappa della Red Bull, è una salita dei trampolini di Predazzo, in pratiche parole sono 400 metri di lunghezza per 370 metri di dislivello, quindi capite anche voi che è quasi l'80% di pendenza. Siete abituati, ma per correre all'incontrario le cose... Anche il turdeschi va su una pista di discesa di sci alpino. Il turdeschi sci di fondo che va in salita su una pista di sci alpino, qui le rampe del salto, questo è spettacolare... Esatto, diventano, è anche questo motivo naturalmente di agonismo, ma diventa un motivo poi per far festa, insomma, per ritrovarci, per utilizzare una struttura invernale, tipicamente invernale, perché sono i trampolini, diciamo i crampolini che sono a Predazzo, con una modalità totalmente diversa. Abbiamo visto anche la Nazionale di Pallavolo e poi voi siete famosi per questo, il vostro legno amato dagli utai. In premessa, hai detto, anche questo è qualità di vita, perché gli alberi, oltre a crescere tranquilli, crescono anche in un bellissimo ambiente. Già dalla storia, insomma, noi gli utai più importanti, Scradivari poi ha dato il nome, ha dato la celebrità, ma ancora oggi, insomma, ai Val di Fiemme, vengono prodotte le tavole armoniche per i pianoforti o per i violini dei maggiori costruttori del mondo. Pochi giorni fa abbiamo ospitato un congresso del mondo del pianoforte, che appunto è ritornato per la seconda volta in Val di Fiemme, proprio per questa caratteristica che, diciamo, anche la Val di Fiemme ha sposato col suo legno, ha sposato la musica, insomma. La musica e tante feste, questa è la famosa comunità 900 anni di storia. Grazie, Flavio. Eventi dell'Alpecimbre, invece, anche voi come non scherzate? Noi non scherziamo, è stato un lungo inverno che ci ha portato personaggi del Cralibro di Lindsay Vaughan, di Ted Ligeti, quindi i grandi campioni sono arrivati sulla neve dell'Alpecimbre, abbiamo già avuto la conferma di due finali di Coppa Europa il 16 e il 17 marzo 2019, adesso si apre la stagione dei grandi eventi estivi, inaugurata con il Tour of the Alps a metà aprile, siamo pronti per la 100 km dei forti, questa marathon di mountain bike che ci sta regalando grandissime soddisfazioni. Ogni anno partecipano 1200-1300 bikers su questo percorso che ha dell'incredibile con 3000 metri di dislivello e delle difficoltà tecniche veramente da uomini o meglio da bikers forti e poi sarà un susseguirsi veramente tutti i weekend di tanti eventi, dal Latte in Festa, che è questo evento voluto dal Trentino che accomuna i territori che hanno una vocazione per quello che è il latte e i prodotti derivati e che noi faremo insieme alla Val Sugana il 7-8 luglio a Passo Vestena. Sarà un'occasione proprio per conoscere la magia... Passo Vestena è il passo che unisce la Val Sugana con la valle, con la vostra... Con l'Alpe Cimbra e che rende la Val Sugana fruibile ai nostri ospiti infatti sempre più spesso sia con il trekking che con la mountain bike vediamo persone che dalla Val Sugana salgono in Alpe Cimbra e viceversa perché un'altra caratteristica che spesso fugge è proprio questa nostra vicinanza ai due bellissimi laghi di Levico e Caldonazzo e al lago di Garda dove inaugureremo un nuovo sentiero, un nuovo trail mountain bike che rapidamente ci porta in valle sul ciclabile che da Cagliano porta velocemente al lago di Garda. Quindi da Folgaria, da Lusena e Lavarone arrivate fino al lago di Garda. Lago con lago, lago di Lavarone che abbiamo visto fino al lago di Garda. Esatto, e poi il lago di Lavarone bandiera blu per la seconda volta quindi l'elemento acqua. Questo è proprio il canning che si può fare in questo nuovo trail che da Folgaria e dall'Alpe Cimbra ci porta verso il lago di Garda. Grazie Daniela. Un altro amico che si intende di acqua è il nostro Kurt con questo triathlon di Caldaro che è uno degli eventi clou della stagione delle atriplici disciplina e non solo poi. A parte quello l'interno triathlon di Caldaro apre la stagione ai primi di maggio per poi andare avanti per fare diversi eventi però visto che sono qua in mezzo ai rappresentanti trentini lanciamo la grande novità che c'è. In anteprima perché Kurt Arrate organizza eventi io l'ho conosciuto per lo scialpinismo per il triathlon ma lui è un fanatico di golf giusto? Quindi prego la regia di far vedere le immagini del golf perché ti sei inventato qui siamo a Vienna e questo evento che hai fatto vedere a Vienna qui lo farai a Trento. Siamo a Trento qui vediamo delle immagini di Verona Ah questa è Verona scusa io ho pensato se viene Abbiamo la presentazione alla conferenza stampa proprio martedì che tireremo con la compagnessa Giulia Sergas che è l'impionica di Rio dal tetto del Muse e lì poi ci sarà una cosa molto particolare che adesso non dico che farà aprire gli occhi e le bocche a tutte le persone che per fare praticamente per presentare Cioè tu porti il golf in città praticamente Portiamo il golf in città con delle location a mozzafiato raccontiamo praticamente la città in un contesto diverso giocando a golf e anche adesso vediamo l'evento di Vienna che abbiamo fatto venerdì a sabato il venerdì avevamo oltre 280 bambini che potevano provare a giocare per la prima volta nella loro vita un tiro da golf Ma come mai il golf che ci sarà la Ryder Cup nel 2022 in certi paesi il golf è una disciplina che è veramente Sì e lì dobbiamo dire che l'Italia è ancora un po' dietro con tutti i giocatori perché abbiamo più o meno 100.000 giocatori di golf su 60 milioni di popolazione in Austria hanno 120.000 con 8 milioni di popolazione in Svezia 8 milioni di abitanti 800.000 bravo infatti c'è tutta un'altra mentalità un'altra 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 cultura va bene grazie quindi grande evento a settembre per il golf ora chiudiamo con la Cornelia hai detto del milk life ma non solo per questo è stato 2018 Cornelia Sì ci aspettano anche tanti grandi altri eventi legati anche al mondo dello sport volevo ricordare Floriano Gramitico che è la grande reunion degli arrampicatori boulder in Valle di Daone che sarà in programma il 9 e 10 giugno prossimo ma anche la tappa della bike Transalp che quest'anno arriverà al lago di Roncone in Valle del Chiese il 20 di luglio valorizzando anche tutto quello che è il contesto legato al mondo della mountain bike del nostro territorio in queste immagini vediamo anche un'altra bellissima diciamo attività legata al nostro territorio che viene svolta nella cascata del Palvico quindi il canyoning e qui c'è un passaggio sulla splendida Val di Fumo e con la ricchezza delle sue acque i grandi impianti idroelettrici e il bellissimo poi lago di Idro qui alcuni passaggi della mountain bike e volevo anche ricordarti il progetto legato all'inserimento delle biciclette a pedalata assistita tutto il territorio della Valle del Chiese è fornito di colonine per la ricarica elettrica di questo mezzo che sta diventando sempre più apprezzato e diciamo importante più apprezzato dal grande pubblico anche da chi come me non è particolarmente sportivo e quindi si avvicina a questi percorsi molto belli utilizzando la bici a pedalata assistita grazie Cornelia ora cari amici telespettatori c'è la pubblicità ma non dovete tenere il comando perché l'estate 2018 in montagna continua nella seconda parte di S4 a tra poco quando il gioco si fa duro e per le sfide di ogni giorno c'è Cetilar doppia forza al tuo massaggio il massaggio con il nuovo Cetilar aiuta a ridurre il dolore articolare sali in quota avvicinati alle montagne del Trentino occidentale con funivie e seggiovie fino a settembre le località dell'associazione Schirama Dolomiti ad Amello Brenta ti aspettano per scoprire gli itinerari più belli se acquisti adesso lo ski pass stagionale del prossimo inverno avrai libero accesso agli impianti di risalita tutta l'estate vivi con noi una stagione di emozioni info su schirama.it Anche quest'anno per la gioia di tutti gli appassionati di off-road a Carrara torna il 4x4 Fest il più importante salone italiano dell'auto a trazione integrale auto, moto quad, accessori test drive in pista ed in spiaggia tour alle cave di marmo e raduni 4x4 Fest a Carrara Fiere dal 12 al 14 ottobre 2018 Federfuni è una nuova governance della montagna per lo sviluppo economico l'occupazione è il rilancio turistico della montagna Federfuni è l'associazione di chi vive e ama la montagna per maggiori informazioni www.fedelfuni.it in collaborazione con Schirama Dolomiti Adamello Brenta Alpe Cimbra Folgaria Lavarone vicina da non crederci Val di Fiemme Ponte di Legno Tonale Peio Val Sugana Paganella Schi Ponte di Legno 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 Ponte di Legno